La Puglia è una delle regioni italiane dove i bambini sono più esposti al rischio di subire maltrattamenti anche in famiglia, un fenomeno aggravato dalla pandemia e dall'aumento dello stress tra le mura domestiche. La denuncia arriva dalla Fondazione CESVI, secondo cui a pesare è anche la carenza di servizi di prevenzione sul territorio. Solo in Campania, Sicilia e Calabria, secondo il rapporto, la situazione è più critica. In occasione della giornata nazionale contro la pedofilia, intanto, presentato a Foggia un protocollo d'intesa per il contrasto al maltrattamento e all'abuso sessuale. Un'iniziativa che vede la collaborazione tra Regione, Questura di Foggia e Polizia di Stato e che coinvolgerà le scuole pubbliche di tutta la Puglia. Tra le azioni previste, la diffusione di un libro guida composto da schede visive in grado di rievocare nei minori, in modo delicato, scene di potenziali abuso e maltrattamento. Un utile manuale nelle mani di insegnanti, educatori e associazioni per riconoscere sin da subito i segnali di disagio nei bambini e denunciare gli eventuali abusi.